Entra nel vivo l'avviso Carpe Diem, misura dell'assessorato del lavoro a supporto del RACE, il reddito di inclusione sociale. E al via il catalogo dei progetti di inclusione sociale lavorativa in favore delle famiglie e delle persone in condizioni di disagio economico e sociale, che percepiscono il sussidio economico regionale. Si tratta di un'azione concreta da non confondere con i proclami che stiamo subendo in questo periodo, dichiara l'assessore del lavoro, Virginia Mura. Siamo in grado di prendere in carico le famiglie sarde in situazioni di povertà, attraverso una misura già operativa, sia in ragione di robusti finanziamenti attinti dal Fondo Sociale Europeo, sia grazie all'esistenza in Sardegna di una riorganizzata rete di centri per l'impiego. Ai beneficiari del RACE saranno destinati una serie di interventi e di percorsi personalizzati, capaci di sottrarre dallo stato di povertà un bacino potenziale di migliaia di famiglie. I progetti sono stati proposti da organizzazioni del terzo settore, soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, soggetti sociali solidali, enti di gestione pubblico-privata ed agenzie formative accreditate. Il compito di selezionare i percorsi personalizzati è stato affidato ai Plus della Sardegna.